Guarda, noi siamo venuti tranquilli a parlare, o no? Cioè, quale fatto, scusami? Cioè, io sono venuto pure a Milano, io sono venuto pure a Milano, io sono venuto pure a Milano. E se non vi parlo un'altra volta, ma non si è venuto a parlare più, ma neanche tutto. Dato che era finita, a te no perché non, ma l'altro è il tuo, e poi dici qua che era finita la soglia, no? Non c'è finita lì. C'è anche perché, che do cazzo vuoi andare. Allora, tu mi devi dire a me, com'è che è andato che era finita quando è morta l'amico nostro e manca una chiamata? Com'era finita, con tapposso, che ha stretta la mano, allora sono venuto a me. Com'è se è stato? Morta l'amico mio. Manco se ne sei toccati con un dito. Chiaro, ma la gente ha affaccato per molto meno, per 100 euro. No, voi precisi, a molte cose là, sui siti avete infagliato, l'altro caga sotto, e caga sotto, e caga sotto, e caga sotto che non gioca, e sbaglio, non sa poi, diceva, non è successo niente, è tutto. Ma sbaglio in strada. Perché? Ma perché non c'ha né le palle da mettere i soldi, in sedia? Perché? Perché tu ci hai visto, ti hai scappato, hai detto che... Non sono scappato. E tu non mi riconosciva la barba, tu a me non mi riconosciva la barba. Ovidemi. A me non mi riconosceva la barba, il numero di ragazze non ce l'ha. E i feri ne è vero che l'hanno detto. Questa canzone è richiesta. Questa canzone l'ha fatto Mario Cicchi. Questa canzone. Questa non sa il cazzo. Vabbè, con chi dove parlate? Con chi dove parlate? Io che parlavo una volta, mi sembrava una conoscenza, un bravo ragazzo, voglio un po' di spiegazione. Perché io vedi, non dimostro, non c'è più una macchina, mi faccio così ora, vengono mirando. Vabbè, non rimedi il numero, non rimedi il numero, non lo faccio qua. Chiamo quarta minuti, faccio il numero. Io non lo so che mi stai a piar per culo, io non ne ho la faccia a parlare con me. Io te vi spiego tutti la testa in faccia, te state cazzo. Fia a sto telefono del merda, vai. E più il numero. Piar telefono e rimedi il numero. La prossima ti ha dato un pascio, eh. Ti surboppate, lascio per terra. Piar telefono e chiama a sto merda, dai. Piar telefono e chiama a sto merda. Chiama a sto merda, dai. Chiama a sto merda. Andiamo a posto, voglio, andate. Si stanno a dare per la ricetta o uno specifico. Ti cazzi, li guardi, li guardi, non lo so. Non fai questo, non lo so. Non lo so, non lo so. E non lo so. Voi te voglio il numero di questo. Fate tanto i malandini, voi te siete buoni a fan cazzo. Voi te siete buoni a fan cazzo. Voi te voglio il numero di questo. Almeno questo se vogliono a farlo. Vado a me il numero di questo. Voi via il telefono a me, non ce l'hai nulla, sei sicuro che ce l'hai nulla? Siamo più il telefono a noi, le stanno ci sta succedendo, ti chiedi cosa fai, ti giochi a fare male a tutti, ti stai giocando a fare male a tutti, insieme a questi altri cialetti che diamo stretto pure la mano e poi manco una telecona quando è morto nel palazzo e ti metti, Stai arrivando Fabri che almeno è l'unico, è l'unico siero qui, un ragazzo per bene in un orizzone e si appoggiano da salute, i quattro coglioni, lo mettono nelle canzoni perché fa apri le nostre, fa apri le nostre, Fabrizio è con noi, chiesto Fabrizio. Grazie